Presidente, molti tifosi si augurano Conte come allenatore di Almina, lei che cosa dice? Io personalmente no, non lo vedo come tifosi, perché è un grandissimo allenatore, ma un allenatore che stressa troppo le squadre, con il quale non si riesce a fare un programma a lungo termine. E quindi chi le piacerebbe? A me piace molto De Zerbi, Milano è abbastanza nota per essere una città assolutamente rispettosa delle regole e rispettosa di quegli elementi di sportività che sono la base della bellezza dello sport. Io non condivido, non concepisco, non ammetto che si possa andare oltre una... Finché sono gli sfottò, quelli vanno benissimo e anzi sono il sale dello sport, ma oltre non si deve andare. E qui abbiamo dimostrato che noi milanisti abbiamo accettato e abbiamo riconosciuto il merito di chi è stato più bravo di noi. Da tifoso cosa pensa del momento attuale? Da tifoso penso che oggi avrei preferito non venire a Sanseo. Quindi di attività sportive veramente accessibili alle famiglie e ai ragazzi milanesi, un po' per toglierli dalla strada.